Gesù, salvaci! E' più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago, che un ricco riesca ad entrare nel regno di Dio. La cosa più importante è amare il vostro prossimo come voi stessi. Maestro! Sei così istruito. Ti chiedo una cosa. E' lecito pagare le tasse ai romani? No! E' una trappola. Allora, cosa rispondi? Dobbiamo pagare le tasse oppure... Non pagare! Non pagare! Non pagare! Basta pagare! Israele! 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 Dindelo! Israele! Di chi è quell'iscrizione? Di Cesare. Rendete a Cesare quel che è di Cesare e rendete a Dio quel che è di Dio. Petiteviare! Vecica! 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 Grazie!